Gli alloggi di edilizia popolare di San Gregorio sono da anni abbandonati nel degrado totale, senza le minime condizioni igieniche e ambientali, una situazione che balza subito all'occhio di chi ci passa, anche dalla strada principale. La denuncia di Lelio De Santis, consigliere comunale di cambiare insieme, parecchi dei 30 alloggi oggi sono vuoti perché le famiglie hanno avuto in assegnazione appartamenti del progetto case, ma mantengono le chiavi, rileva il consigliere, vengono spesso utilizzati come magazzini. De Santis da anni sollecita l'amministrazione comunale a intervenire e secondo lui la cosa grave è che il comune non ripristina le condizioni minime di igiene, ne richiede le chiavi a chi non ci abita più, sostiene. A farne le spese però, secondo lui, sono le 15 famiglie che sono rimaste ad abitare lì, nel degrado più assoluto tutto intorno. Sto chiedendo da anni di sistemare tutto il complesso di San Gregorio, di case popolari realizzato tanti anni addietro, che c'è una situazione di grande degrado, lì c'era un progetto di sistemazione, di bonifica che è rimasto appeso. Alcune di quelle famiglie sono state trasferite al progetto casa, altre permangono, vivono lì e dovrebbero poter vivere in maniera tranquilla in un contesto adeguato, in condizioni igienico-sanitarie accettabili. Invece questo non è. Le famiglie che hanno abbandonato questo complesso per il progetto casa continuano a utilizzare questi appartamenti, questi garage per deposito, rimessa di materiale, attrezzature e in qualche circostanza non tengono in modo adeguato questi appartamenti. Ora, io ho chiesto e sto chiedendo da tempo alla parte politica e a quella tecnica del Comune di portare avanti il progetto di bonifica di tutta quell'area, perché questa è un'area che insiste nella frazione di San Gregorio che, come tante altre, è abbandonata dall'amministrazione comunale. Lo sto chiedendo da tempo di sistemare tutta l'area, di rimettere a posto quel quartiere, di rendelo vivibile. Nel frattempo, se necessario, queste famiglie possono essere tutte quante, quelle che permangono a San Gregorio e anche quelle che sono state destinate al progetto casa, potrebbero avere da parte del Comune un alloggio degli appartamenti di edilizia equivalente. Noi ne abbiamo 600, mica uno, sfitti su cui paghiamo gli oneri, il condominio. Sono abbandonati, dico, li abbiamo rimessi su, rendiamoli fruibili.